Grazie a tutti. Va bene, Margaret. Mappa 1089. Ti do una ai rossi. Va bene, Margaret. Mappa 1089. 1089. hard. No, no, no. No, no, no... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché non possiamo sedere nella sala da pranzo dell'albergo e parlare davanti a tutti, eh? O perché non puoi venire semplicemente a casa? Far sapere a tutti che ci siamo visti? Ormai lo sanno già e che importanza ha, siamo sposati. Questa è una cosa che io vorrei tanto poter cambiare. Conosci la risposta, Katrin. E non è per questo che hai voluto vedermi. Hai un bel corticino, sa? Immaginavo che l'avresti gradito. Proprio come piace a me, Margaret. Accidenti! Guardate chi c'è! Giornata libera? Mi domando per quale motivo sia così preoccupato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.